...fredda e calda, quindi sarà sicuramente un grande successo per questa estate, lo è già stato grazie anche alle emittenti della RAI che con Simona Ventura lo hanno proposto più di una volta e una volta ancora in quel studio della domenica pomeriggio della signora Ventura e stasera è qui con il ballo del cavallo Alberto Selli! Amore, ho voglia di ballare, dai, fammi cadattare! Non c'è buona scuola e balla perché è facile amparare, muovi e spiega tutte cose per capire come si fa, forma un gruppo di persone e non c'è limite di età, dai bambini ai novantetti basta da forse mutare! Il maschetto fa il cavallo e la femmina va su, si non si piega nel coso, dimmi chi ti ferma più! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, tu subi un doppio spalla e te mi attacca avanti, ma chi ti porta un gol non ha da essere muovi, sino per me su spalla si sa che un sciugavano! Vuoi andare a marcia avanti, vuoi andare a marcia indietro, la scena non si areta, vedrai se non piacere! E ho, po, po, le mani sulle spalle, e ho, po, po, t'appoggi sulla schiena, e ho, po, po, le gambe al giro vita, e ho, po, po, evita la salita! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, e chi si stanca prima, ha da papà non venga! Per le strade, in discoteca, in coppia, in spiace, in panna, cia, fin da tutti i cerimoni, e tu divietta all'un palla, è una cosa naturale, ma ci vuole abilità, se controlli l'energia, tu chiusi in cultura, puoi cambiare pure il cuore, e il maschietto salta su, è una gara di resistenza, perde chi non ciava più! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, tu subo un coppia in spalla, e te metà cavalla, ma chi te porta un guolla, non ha da essere molla, se no per me su spalla, si sa mu su cavalla! Puoi andare a marcia avanti, puoi andare a marcia indietro, facendo ammanziare, vedrai sarà un piacere, e oh, po, po, le mani sulle spalle, e oh, po, po, t'appoggi sulla schiena, e oh, po, po, le gambe al giro vita, e oh, po, po, evita la salita! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, e chi si standa prima, a capa va non venga! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, tu subo un coppia in spalla, e te metà cavalla, ma chi te porta un guolla, non ha da essere molla, se no per me su spalla, si sa mu su cavalla! Puoi andare a marcia avanti, puoi andare a marcia indietro, facendo ammanziare, vedrai sarà un piacere, e oh, po, po, le mani sulle spalle, e oh, po, po, t'appoggi sulla schiena, e oh, po, po, le gambe al giro vita, e oh, po, po, evita la salita! Oh, balla, roga, balla, è facile non spanga, e chi si standa prima, a capa va non venga! Il ballo del cavallo! Alberto Selli! Ale! Puoi scendere con Alberto, dai, che ne sentiamo più alto da qui! Eh, lo so, lo so, si respira anche aria buona, quindi, ringraziamo il pubblico che questa sera ha interpretato, quindi il tuo ballo, in maniera molto tradizionale, dovremmo in qualche modo dare qualche informazione in più, perché il pubblico di Tutta un'altra Musica è festa in piazza, apprezza questa canzone, prego Enrico, comodi, comodi, anche nella versione di Sabrina Musiani, Sì, che l'ha fatta! Con la scuola Etoile, che ogni tanto, quindi, partecipa a queste nostre trasmissioni, sono loro a coreografare questo ballo, perché sono molto bravi! Ho visto! Dato che, eh, questa sera, quindi, ehm, la scuola non c'è e abbiamo sentito la tua versione, sarebbe anche carino ritornare un attimo sui passi e poi, chissà, magari nel corso della puntata la potremmo anche rifare, la canzone, se abbiamo il tempo! Vi potete alzare tutti e due? Vai! Perché qual è il segreto principale di questo brano? Cioè, qual è il passo principale di questo brano? Allora, posso spiegarlo, eh? Vai! Vadi! Questa canzone, inizialmente, nasce per, tipo, festa in famiglia, festa tra amici, il salto sulle spalle, cioè, in groppa al cavallo, era questo l'idea! Quindi, praticamente, si balla in due? Non zoom! C'è bisogno di qualcuno che tompa in groppa? Esatto! Non zoom un salto sulle spalle e ti metti a cavallo! Ma chi ti porta un gol, cioè, chi ti porta in groppa, non deve essere mollo, perché, se siamo usciti al cavallo, si perde il ritmo, l'equilibrio! Poi, invece, le scuole di ballo l'hanno personalizzata e ognuno di loro ha dato una sua forma e l'hanno personalizzata. Quindi, ci sono varie versioni. Ma la nostra, qual è la versione ufficiale? Sattami sulle spalle, non faccio le note! No, non ce la faccio! No, no, dai, 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 questo è quello ufficiale! Vado! Non è questo! Si balla in due, allora, avevo ragione io! Non è proprio così, no, la nostra lettuola l'ha fatta un pochino, perché, se no, come facciamo noi a saltare? L'ho fatto per regalare un sorriso, alla fine faccio! Dai, quindi, quindi, il ballo del cavallo, noi andiamo a destra, così, e facciamo il cavallo! Questo è quello dell'ettuale! E c'è tra poi, andare avanti, quindi, andare avanti, avanti, indietro, andare a marcia indietro, facendo un anzaretto, vedrai, sarà un piacere! E hop, 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 le mani sulle spalle, e hop, 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 t'appoggi sulla schiena, e hop, 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 le gambe girovita, e hop, 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 giri, eviti la salita! Dobbiamo rifarla stasera, grazie Alberto Selli e grazie Sabrina Musiani! Prima di passare alla prossima canzone, quindi...